Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Lui ci chiama a partecipare alla sua relazione con il Padre e questa è la vita eterna. Gesù vuole stabilire con i Suoi amici una relazione che sia il riflesso di quella che Lui stesso ha con il Padre. Una relazione di reciproca appartenenza nell'intima comunione. Per esprimere questa intesa profonda, questo rapporto di amicizia, Gesù usa le macine del pastore con le sue pecore. Lui le chiama ed essi riconoscono la sua voce, rispondono al suo richiamo e lo seguono. È bellissima questa parola. Il mistero della voce è suggestivo. Pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a riconoscere la sua voce e quella del papà. La voce di Gesù è unica. Se impariamo a distinguerla, Egli ci guida sulla via della vita.